La prima cosa che insegniamo ai bambini, ai nostri figli, è essere gentili ed educati quando siamo grandi e poi ce ne dimentichiamo. Quindi promuoverla e soprattutto all'interno di una comunità vuol dire anche riportare i valori nel loro posto dove comunque devono stare. Loro Ciuffenna, sempre più paese della gentilezza, dopo l'assessora, quelle che potremmo definire buone maniere, arrivano anche dei premi per i dipendenti più cortesi. Dallo scorso settembre infatti il comune che si trova alle pendici del Prato Magno ha deciso di istituire uno specifico assessorato, aderendo così per primo in Toscana alla rete nazionale. Questo è il ruolo che ci compete, noi non siamo, come dovrebbe dire qui, per altri scopi se non quello di accrescere quella che è la capacità di un territorio di aumentare il valore. I compiti dell'assessore alla gentilezza vanno così dalla buona educazione al rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, passando per la sensibilizzazione ai comportamenti positivi e al favorire lo spirito e l'unità della comunità. E comunque fa piacere insomma l'idea che ci sia una persona che possa promuovere anche queste iniziative, che non sono distanti dalle iniziative dell'educazione civica o delle pari opportunità che comunque vengano fatte. Però anche dargli un nome così specifico come gentilezza sicuramente viene compreso da tutti e apprezzato un po' in tutte le fasce d'età. Adesso l'amministrazione ha anche deciso di andare oltre con una delibera di giunta, infatti ha approvato un progetto che invita anche i propri dipendenti appunto alla gentilezza. Chiaramente essere gentili bisogna essere in due. Ecco molte volte abbiamo detto bene il pubblico o la pubblica amministrazione deve essere gentile nei confronti dei cittadini, certo. Però anche i cittadini si devono ricordare di porre le domande e le questioni in una maniera gentile. Se entrambi si ritrova il gusto della gentilezza sicuramente si crea valore aggiunto in entrambi. L'ufficio personale ha così disposto una tabella di valutazione dell'operato dei dipendenti comunali, una trentina in totale, basato su questo inedito parametro. Premi dunque a chi si distinguerà con sorrisi e disponibilità. C'è un fondo economico a cui Attingere verrà comunque distribuito anche in base a questo parametro oltre chiaramente ai parametri della produttività e di altre attività che comunque svolgono quotidianamente. L'assessore arriva subito.